Nel 2026 in Veneto ci saranno almeno 850 medici di medicina generale in meno rispetto ad oggi, 1.850 contro gli attuali 2.700, nel frattempo però solo 500, nella migliore delle ipotesi, saranno i nuovi medici formati, con il risultato che ogni medico di base dovrà seguire 2.350 persone e questo senza tener conto delle differenze tra territori, per esempio montani, dove la densità della popolazione è ovviamente molto più bassa rispetto alle città. L'Ordine dei medici di Padova lancia l'allarme perché la situazione con i pensionamenti già previsti rischia il tracollo nel giro di 4 anni. È uno studio della CGA di Mestre fatto nel 2016, già presentato in Regione, già presentato all'Irlo Nazionale, di cui nessuno ha tenuto conto. Bisognerà pensare ad altro. L'Ordine propone almeno che l'assegnazione dei pazienti avvenga sulla base dei territori e non solo per numero di pazienti, ma c'è anche un'altra grave preoccupazione riguardo all'assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale. Ormai infatti per la carenza di medici anestesisti e di pronto soccorso, le AS assegnano alle cooperative anche questi servizi così delicati. I tagli degli anni scorsi si stanno rivedendo in questi giorni e la nostra preoccupazione è quella della qualità espressa dentro servizi assolutamente vitali come il pronto soccorso e l'anestesia con il ricorso alle cooperative. Per questo gli ordini dei medici di Padova e Verona assieme alle rispettive università istituiranno una commissione per valutare la qualità di questi servizi. Essendo i due ordini più grandi del Veneto, ma anche e soprattutto essendo sede delle due prestigiose università, che ci possono dare le linee guida su quali sono i criteri di qualità che un medico deve esprimere per fare quella funzione. Agendo nella legalità e rispettando il garantismo necessario, accadono però già anche situazioni limite. Da una cooperativa è stato proposto e ha lavorato al punto di primo soccorso di Montagnana e in altri posti un medico di medicina generale toscano radiato dall'ordine in attesa della conferma o meno, quindi assolutamente che poteva lavorare. Però noi riteniamo che ci sono delle situazioni di opportunità perché il cittadino deve essere tranquillo e sereno, soprattutto in situazioni così gravi.